Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bordolo di Vicenza un uomo di 48 anni ferito al torace con un fendente di un'arma da taglio. È stato l'epilogo di una violenta alita in famiglia avvenuta nella notte nel fine settimana a Sovizzo. L'uomo sarebbe stato colpito con un coltello dal nipote come risposto dopo aver subito un colpo in testa con una bottiglia di vetro. Il grave fatto di sangue non è stato l'unico avvenuto nel weekend. Un altro accoltellamento è avvenuto in centro città. Due stranieri si sono azzuffati nella notte sembra per contendersi un monopattino. Un ventenne alla fine ha ricevuto una pugnalata all'addome ed è stato ricoverato in codice giallo sempre al nosocomio vicentino. Gli agenti della polizia di stato stanno ricostruendo l'accaduto avvenuto in contracatena anche con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza che hanno documentato la violenta lite.